sì ragazzi tante novità tante cose belle tante cose meno belle tante cose meno belle queste tutte dopo la sigla facciamo questo questo vod insomma dove anche qualche spiegazione è quello che sta un po succedendo o meglio nel mio canale per quei pochi che mi seguono insomma però diciamo non sto abbandonando twitch che adoro ma al momento la situazione è quella che è quindi grazie sigla 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 eccoci qua eccoci qua parte che già chatting in realtà è una è una live just chatting adesso verrà notificato altro però vabbè ci sta ci sta non è un problema non è un problema capita capita perché fine davvero davvero una cosa che non voglio non volevo fare ho detto bravo la faccio però hanno tante tante novità nel canale ragazzi è assolutamente assolutamente sono tanti giochi che stanno uscendo tra l'altro sopportando stavo portando stavo portando un bel gioco che appunto credo credo insomma plug tail insomma no plug tail requiem però non è non è un gioco che non gioco che può andare su twitch bene su twitch è un poco gioco un po lento non è the last of us ecco molti non piace e ho capito perché e c'ha dei dei difettoni cosa che non spesso credo che viene detto quindi questo questo bellissimo gioco insomma plug tail requiem ma che in realtà non è proprio bellissimo nel senso gameplay molto rigido ci sono sitopi 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 tema un po' horror se quindi però se lo prendiamo come non dicono in indie ma come un titolo horror che bene o male diciamo potrebbe appassionare quelli del genere poi magari horror e medioevo non lo so insomma però non può neanche appassionare i diciamo gli appassionati ecco le persone che insomma dicono va bene gli storici perché no c'è comunque di fantasia è un'avventura che forse doveva rimanere no one shot un titolo solo invece hanno dovuto fare un seguito per dio denaro però insomma non è brutto è solo che è molto molto pesante a giocare pieno di difetti c'è un sacco di glitch io lo sto giocando e devono ci devo uscire un sacco di roba c'è un sacco di titoli che stanno per uscire poi poi vediamo se qualcuno si collega qualcuno qualcuno di vecchi storici storici di quelli che ultimamente si stanno si stanno collegando il mio canale vediamo e vediamo sicuramente sicuramente insomma la live un po triste dico tantissime novità ma anche tantissima solitudine in realtà solitudine relativa su 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 sul nostro canale su questo canale io fa l'altro canale lo rinominerò insomma l'esperimento di italiano cioè allora io a stimare si fosse sempre si strimato sempre videogiocato sempre siamo più o meno più o meno sono normale non c'erano studio non sa bs quindi non mi ci dedicavo tempo ci ho dedicato tempo due anni e mezzo insomma per imparare per fare tante cose poi insomma mesi di corso di fatto lo studio come qualcuno di voi sa la luce a sinistra lo lascio spende apposta perché comunque un faretto che di di 3.000 lumen o 4.000 lumen un faretto che comunque con suo sacco di corrente 40 watt sinceramente sono lasciato giusto i led quelli quelli po più diciamo normali diciamo così che il faretto per illuminare la parete ha bisogno ha bisogno di insomma c'è bisogno di un faretto potente detto questo insomma non ho non ho visto insomma molti aiuti seguirò per sempre non ti seguirò per sempre vabbè c'è un po di promesse di bambini ovviamente io capisco pure che i bambini sono bambini ma anche persone che non hanno tempo c'è crisi bollette che stanno arrivando a prezzi altissimi il mio samsung bello così però è qui c'è da stampa positivo colore tipo twitch è sempre un peccato metteci bumper secondo me sembra un peccato metteci bumper comunque al di là di tutto mi dispiace tanto che insomma che però il periodo anche di merda sinceramente però è più di merda e tutto questo però c'è delle belle novità personali poi anche dei giochi insomma ne possiamo parlare eventualmente se qualcuno si collega e voglio fare una just chatting perché farò ciao ma se non farò già solo just chatting su switch eviterò gaming perché uno ho visto che molto spesso c'è entrano per per insomma così per cazzeggiare non perseguire il gioco quindi a me persone che mi entro nella live mentre sto giocando e che non partecipano al gioco non mi interessano non mi interessa nulla per questo motivo anche se mi dispiace tanto la maggior parte del a meno che non porterò giochi famosi come per dire fortnite warzone o giochi popolari dove vedrò che c'è comunque la partecipazione i giochi come che sto portando insomma questo gioco sul medioevo li porterò su youtube dove però attenzione sottimando 2k quindi attualmente li gameplay che troverete su youtube da ieri praticamente saranno tutti a 2k fin quando mi lascia la connessione ma siccome ne ho due portato il mondo che c'è sotto i piedi come diceva com'era la roba vecchia da boomer abbiate pazienza non strimerò diciamo tantissimo su twitch ripeto perché non mi serve a nulla avere persone che mi entro così ciao mi saluti mi saluti mia sorella non mi servono assolutamente a nulla mi servono persone che adorano il gaming o che comunque gli piace il gioco se non mi piaccio io ovviamente certo potendo vorrei due persone che a cui a cui piacere e qui piace il gioco non posso essere simpatico a tutti non sono questo io sono comunque un tecnico che da due anni sto facendo streaming però adoro giocare e adoro divertirmi e sono simpatico non dico a comando però c'è provo c'è provo tanto ma ci provo c'è proprio tanto per quanto riguarda novità personale ripeto c'è c'è questa cosa qui che sto strimando a 2k su youtube l'avete dovuto fare prima perché teoricamente potrei anche mettere i video a 4k su youtube dove c'è nel senso non è quello discorso su twitch non si può non si può e io do lo twitch magari un domani si potrà ma al momento su twitch si può sostimare che io sappia in full hd che è un peccato perché molti di voi hanno monitor 2k molti qualcuno di voi anche un 4k ma monito 2k ci sono ce ne sono tanti anche di altre risoluzioni diverse non è non è quello discorso però che superano il full hd ci sono tanti di voi che ci hanno moito che supera il full hd e quindi avere essere limitati al full hd è un po è un po un po poco e quindi siccome insomma io non ci ho mai provato perché ho detto beh non mi legge la connessione ho provato a una connessione molto 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 stabile quando mi funziona ripeto però oppure fast e quindi all'occorrenza usiamo fast e beh non ho una fibra pura se no stimere 4k e nulla quindi sto stimando vi faccio vi faccio vi faccio vedere faccio vedere per onore insomma di chi anche se con pessimi risultati perché alla fine io youtube non l'ho quasi più cagato cioè mettevo i gameplay la sopra così un po non dico random però insomma sì c'è tutto in serie c'è tutto c'è youtube ci sta tutto questo è scritto anche del mio nel mio canale c'è c'è tutto anche su twitch voglio dire però al momento al momento non non ci tenevo insomma non facevo anche facevo anche tanto più di tanto editing ho cambiato il luogo del canale il canale insomma a meno provvisionemente per poi vediamo vediamo perché si sono dove devo rifare le grafiche di tutto grafica le cose che ho fatto però al momento si chiama go italia go scusate go italia game no games ok quindi go italia games ok insomma perché da oggi in poi io i giochi di streamerò io gioco sempre a 2k ragazzi solo che su su ovviamente su twitch voi vedete in full hd per cui poi sperando sperando di fare di fare come tanti altri streamer che pubblico tutto a in 4k però fin quando non c'è una fibra e poi diciamo magari con una quanta 40 80 sicuramente potrò andare in 4k è una fibra però chissà se succederà mai per il momento va benissimo e quindi sto streamerò 2k è sinceramente molto molto meglio perché in full hd comunque c'è compressione spesso volentieri c'è qualche pixel che salta siccome sono un perfezionista qualcuno di voi pochi molto pochi tre secondo me si saranno accorti che le mie live comunque su twitch diciamo sono quasi al livello di persone che hanno molti 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 più fuori di me ma assolutamente assolutamente diciamo è una cosa che come dire che quasi lo standard forse no però qualcuno non se ne accorge io alcune volte me ne accorgo di di stima di altri e mi accorgo delle mie vecchie streamer streaming streamer simer le mie vecchie le mie vecchie live che sono molto molto inferiori come come qualità è questo questo è un aspetto questo è un aspetto ma l'aspetto molto molto marginale di vedo perché non è quello non è quello il problema insomma alla fine sa roba sto facendo comunque da poco tempo non ho pompato come si deve magari c'è pure una cesta no 16 se un boom ed è merda non lo so chissà comunque al di era di tutto insomma ho cambiato ripeto qualche così nel logo anche su 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 twitch mio nome nome canale quasi youtube e appunto go italia game ok insomma vedete o non lo vedete spero spero di sì ok per dare la possibilità a chi passa eventualmente il mio canale o comunque chi lo condivide chi capisce che cos'è perché effettivamente prima era chiaro game over era abbastanza chiave insert coin game over almeno per il pubblico diciamo internazionale per italiani anche credo che insert coin però è un po poi nato go quindi game over insert coin poi go poi ci ho messo italia perché insomma stimoli in italiano ok diamo insomma per capire no game over italia però è nato questo go italia però effettivamente go italia sembra quasi forse italia non me ne voglia ma grazie un grande perlusca ma al di là di questo se ho parlato di politica c'è sinceramente insomma sembra quasi un partito politico con italia e questo non va bene questo non va bene quindi c'è un po di misunderstanding anche se c'è il logo di twitch go c'è che ho usato comunque diciamo lo stile diciamo il fondo comunque sia di di twitch quindi io so go e poi adesso ci abbiamo giusto game ok quindi potrebbe essere che togliamo go italia diciamo gameplay o per game ok adesso vediamo e su qualcuno me lo berà il nome è so fottuto però diciamo vediamo vediamo e vediamo un attimino per anche un po di no un po di internazionalità insomma perché ovviamente io adesso posso con i nostri mari in italiano e poi vediamo ripeto ma magari se mio figlio ci fa nel mio posto che meglio che l'inglese lo sa meglio io ho detto sul studio se vuoi tuo se ti fa schifo non lo so però al di là di tutto al di là dei miei deficit comunque io ci tenevo a fare bene twitch è comunque un po l'ho fatto un po l'ho fatto per quindi questo è per quanto le novità appunto nel canale vi ripeto faccio vedere e e porterò tutti i gameplay di 20 30 40 minuti 50 minuti poi dipende dal gioco per esempio alcuni open world sono molto pesanti sono missioni che durano un'ora e mezza ok quindi alcuni overworld sono tosti oppure splitterò la missione faccio missione prima parte seconda parte però il mio obiettivo è quello di avere quei 20 30 40 50 minuti al massimo proprio non devono sforare e quindi ho ridotto di 70 80 200 volte quello che facevo io mi mettevo gameplay che duravano tre ore quattro ore zero visualizzazioni però le cose non è che sono cambiate tante visto il periodo del merda ad esempio avrei voluto commentare stasera se qualcuno si collega se no no perché non ha senso il mio gameplay su youtube per quanto riguarda vedete che io in questo momento ce l'ho settato non so se riuscito a vedere forse sì forse no in basso a destra sta scritto automatica mille e 440 a 60 frame quindi sta a 2k a 2k sarà perché di più non c'è proprio proprio con la fibra fibra appizzottata dsl però quando avrò il doppino doppino il che la scusa il jack insomma la come cacchio si chiama l'affarino l'affarino in fibra la quindi la ftth la fiber to the home quindi però quando la fiber to the home la ftt h allora li sarò libero perché anche la playstation insomma se può se ho giocato tranquillamente 4k anche la risoluzione insomma elevato anche con la 30 80 in realtà con la quanto 80 sarà di automatico andare a 4k 60 frames e oltre per cui diciamo vedremo al momento va bene il 2k va bene così facendo la sedia mi dispiace che si è spenta un attimo che ma bene eccomi eccomi tornato ragazzi c'è della serie insomma che non c'era proprio fisicamente la power bank cioè il discorso è questo qua abbastanza semplice purtroppo views non ne faccio né su youtube né quasi speech i vod i vod però qualche voti in più me li vedono su tik tok è un po il pubblico un po stronzo ieri possiamo fatto una live è entrato uno ci sta pure che ci siano gente tossica non c'è da niente però il meridio non esiste poi molti molti che che ne so metto mario bros per dire metto che cacchio ne so gioco più famoso che esiste su twitch su youtube su nel mondo di videogiochi da sempre che si viene stimato fortnite no vabbè fortnite ancora ancora lo sanno qual è però se non metti fortnite non metti world zone ti entrano e no e insomma e ti dicono che gioco è che gioco è no capito anche insomma roba no tipo dell'asso vaso parte 2 no per dire no insomma chi chi si sta su twitch insomma può conoscere dell'asso vaso per dire no e qui dici che gioco è già lì no e quindi pubblico è un pubblico che non allora non te da un centesimo ok non passa su twitch mo pochi di voi sono riuscito a portare qua su twitch e poi sono spariti perché giustamente c'è la pubblicità e quindi non vogliono non vogliono non vogliono spendere soldi non hanno prime quindi diciamo che il pubblico di di tic toc non me ne voglio non me ne vogliate se mi state seguendo e mi avete seguito però diciamo tranne pochi di voi la maggior parte di quelli che da tic toc ma passo su twitch diciamo io non è che sono ricco puoi dire diciamo posso definirmi da questo punto vista molto di fame però almeno un prime almeno un prime insomma io l'ho sempre dato agli stream che mi piacevano dato multiplayer ai a che ne so quel taleale che ne so bla 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 quindi c'è io sinceramente o sinceramente almeno quello quindi c'è non mi arrivano sub non mi arrivano niente cioè mi dicono c'è troppa pubblicità io non la posso togliere quindi c'è ragazzi c'è sinceramente la situazione è proprio nera 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 perché già non arrivano soldi poiché si devono lamentare che gli arriva pubblicità che non è colpa mia che sono soldi che vanno a twitch e allora la situazione si è fatta veramente paradossale continueremo a stimmare perché certo c'è sta roba mi piace l'ho sempre detto e lo continuo a dipendere perché mi sembra ovvio e sarebbe da parte mia ipocrita avervi detto una falsità e poi adesso no venire no in realtà non mi piace stimare lo faccio per i soldi no non lo faccio per i soldi però è normale che se stai otto ore a streamare ok spendi soldini spendo un sacco di soldi di corrente adesso che non ci possiamo neanche più permettere cioè io che certamente non posso più per me e ti arriva ti arriva a zero in più ti ti rompono le potele palle no ma c'è troppa pubblicità e no ma c'è troppa pubblicità e ma sti cazzi allora vai affanculo su un'altra piattaforma e infatti ci sono andato affanculo su un'altra piattaforma almeno io nel senso che su youtube dove dove farò live senza nessuna pubblicità perché non sono affiliato youtube o almeno poi vediamo è a me sembra che non arriva pubblicità poi vediamo che le cose possono cambiare però su youtube su in due k in signori in due k quindi se avete un minimo di connessione internet mi potrete vedere tutti che in play a 2k ogni tanto torneremo anche su twitch però al momento faccio questo passaggio ma non ci guadagno niente molto spesso ma io passo lì perché no visto a maggior ragione che non ci guadagno niente preferisco stimare in due k e avere no questi miei gameplay che siano belli corposi a punto di vista anche della qualità piuttosto che avere questi vod che poi vengono cancellati su twitch e che poi tutto il mio lavoro tutta la mia fatica si cancella come se non ci fosse un domani per cui anche per questo io cerco di pubblicare su facebook su twitch dove mi sembra infatti ogni tanto controllo dove comunque le cose rimangono perché lo scopo no lo scopo sarebbe quello di lasciare una traccia se vuoi fare o comunque in generale avere anche la possibilità io se voglio di vedermi le live che ho fatto su twitch di due anni fa tre anni fa anche per vedere i progressi fatti non ci sta quindi è una piattaforma live al momento al momento ok vabbè ci sta anche la televisione non è che girate la televisione e avete la possibilità di tornare indietro e ho capito però twitch dovrebbe essere qualcosa di più della televisione se twitch si è sostituita alla televisione senza dare quello quella cosa è quello diciamo non è che voglio criticare questo cosa che ho sempre pensato non da quella cosa in più dire no perché perché cancella i voli ragazzi i voli vengono cancellati per risparmiare spazio sul server ok scusami besos se te sto smertà però tu per risparmiare soldini hai hai dato evidentemente occhi per esso i dirigenti di twitch hanno dato disposizioni che i vod devono essere cancellati dopo un tot di giorno di giorni per risparmiare spazio perché il cloud o in generale i server costano un sacco di soldi anche per l'archiviazione ovviamente con tutte le live che si fanno te credo te credo quindi voglio anche capire che c'è anche una grande quantità però almeno so per gli affiliati o forse per i partner vabbè magari le cose cambieranno chissà però io invece ho visto che insomma addirittura hanno riunito i giorni però cioè che mi che mi venga tolto dopo 60 giorni poi però se lo ricarico sulla piattaforma forse rimane ok non sto dicendo niente non sto dicendo niente però se io faccio una live su youtube caro twitch io ti voglio bene ok se faccio una live su youtube la live mi rimane mi sembra per sempre mi sembra poi ragazzi le cose cambieranno e quindi verrò sbuggiardato per carità però è un po antipatica sta situazione sinceramente e quindi io per questo sempre ricaricato su youtube ma con una qualità schifosa se faccio se prendo il file sorgente da twitch se lo carico io perché a chi mi con il gatto bs quello che c'era allora insomma la qualità è quella di 2k e le buona però devo stare la tre ore a caricati grazie tutto un casino che non vi dico però diciamo ho preso ho preso non dico la mia decisione ma farò così farò così poi poi se eventualmente nel live che faccio vedo che c'è qualche feedback da parte vostra che non ho più visto sinceramente quindi insomma anche questo mi dà molto fastidio quando mi fanno i complimenti poi non si ritorna perché evidentemente erano complimenti falsi capite se uno diceva che sei bravo e poi non lo vedo più o ti sto sul cazzo la spiega mi perché dice una voce del merda o c'è una voce del merda lo capisco lo capisco non mi piace la mia voce infatti nonostante usano sure sanice amico di equalizzazione diciamo che se faccio la voce impostata magari magari forse la mia voce è un po meglio ma al di là dello dello scemo insomma più o meno se parlo normale la voce la voce questa e non 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 faccio sempre la voce impostata a volte la faccio nel gameplay mi viene perché no se ci voglio essere più professionale in questo momento non sto facendo un gameplay ma sto non dico cazzeggiando sto cercando di insomma di dirvi le cose che succedono per quanto per quanto quando veramente concerne il lato gaming i giochi che devono uscire e che prenderò sono sono giochi assolutamente assolutamente interessanti credo credo ritengo che siano che gli siano interessanti e quindi quindi un attimo quindi allora io vabbè non fa semplicità dove sto questo momento l'egitto l'egitto non è esattamente un sì un sito diciamo poco famoso ma non molto famoso in italia come tante cose buone se instant gaming penso avete sentito ci hanno fatto pubblicità un sacco di streamer comunque questo è un altro ok però non faccio pubblicità perché non sono affitto da loro quello che però è un prememoria che mi serve quindi vediamo vedremo probabilmente probabilmente vedremo uncharted legacy of the theft collection tra l'altro che stava su ps5 dopo vero lo conquisterò e lo proverò su su steam una grande poi questo qua valant magari probabilmente gioco che balla grande se lo stimmassi tutti wow wow con italia vai 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 ma sinceramente sinceramente come frega proprio perché insomma gestionale poi vediamo e magari mi vedo in chi ho qualche gameplay come fate voi e magari cambierò idea warhammer non mi interessa go the night che al momento devo uscire fra qualche giorno il 21 già lo so inutile perché vedo che che vedi a fare lo sa già con italia quindi devo uscire 21 e quindi portato porterò al lo porterò al dei quad a questo punto cioè lo porterò diciamo così farò una prova di ma live di mezz'ora una roba così vediamo dove prima vediamo io penso prima su youtube a questo punto non lo so vediamo però diciamo mi cambia poco mezz'ora non mi cambia molto mezz'ora un'ora di differenza non mi cambia molto però credo credo che farò una live qua su su twitch il day one appena appena esce vedo vedo se è piaciuto se è piaciuto questo gotham knight però nice però se portare la deluxe edition o meno e poi in base in base a come andrà sta cosa se è zero sinceramente se almeno un piccolo riscontro allora lì continuiamo continueremo su su twitch ma se al momento come purtroppo credo di scontri non c'è non ce ne saranno scusate un pad che è partito ma chi se ne frega tanto c'erano tanti perché sono sempre incasinato vabbè fail in diretta vabbè queste go italia sono caciarone ma di di mio di mio molto spontaneo sinceramente anche a volte a volte molto disordinato purtroppo comunque che poi quando di fatto il cablaggio avrete dovuto considerare anche per esempio le ricariche dei cellulari avete considerato decimina cose purtroppo quello non ricaricato e quindi posso mettere dei fili volanti che si intrecciano e quindi poi succede un casino anche perché uso il pad col volante è il il pad col filo ecco ecco il pad col volante è quasi dalla comica mettere il volante sopra il pad il padre comunque le cose le cose sono così i giochi che devono uscire sono questi qua e sono assolutamente i giochi adesso adesso cioè perché nome fanno morire e me fanno veri i streamer no queste a novembre usciranno a dicembre ci alcuni escono sicuro a questi qua è molto probabile che non uscire ma quando vi dicono non sempre non sempre escono tutti cioè cerchiamo di specifica che molto spesso se lo diciamo uno due mesi prima ai nostri poveri utenti che ci guardano non tutti i giochi e probabili escono esceranno qualcuno ci potrebbe essere anche qualche ritardo però però non è che uno vuole buttare le mani avanti però ricordiamo pure il fatto che molto spesso ci sono stati dei ritardi e poi dopo uno si attacca al tram però diciamo diciamo nell'immediato nell'immediato sicuramente uscirà questo qua che è già uscito uscito oggi ok purtroppo c'è un casino con downloading e sopportando comunque troppa roba quindi però questo qua è comunque c'è più ps5 già l'ho visto portarlo portavo già più ps5 non era questo discorso gotham knights vi ripeto l'esclusiva però io sono fan di batman di robin a bene pazienza però vabbè vedremo insomma comunque l'ambientazione potrebbe essere interessante vediamo secondo me sarà mezza schifezza però può essere mai una figata e poi questo questo new tales from the borderlands che sinceramente non ne vedevo l'esigenza del cell c'è del cell sharing del cell sharing non ne vedevo l'esigenza di sto gioco c'è un altro un altro che non ho portato teeny tiny la come cacchio la tipa ho portato dlc ma non portato per tutta l'avventura è quello mi manca la mia con la mia grande collezione di farfalle di giochi però questo new tales from borderlands visto che la vecchia non sta facendo parecchio e visto il prezzo ma abbastanza basso eh io non ho detto niente no non ho detto niente ma sembra 30 euro se può fa è però ripeto sembra che questa semplicità a questi signori che ho chiesto l'affiliazione ma non data quindi potrebbero andarsene anche a fare il culo teoricamente visto che loro mi hanno rifiutato l'affiliazione però è ovvio non c'è molti numeri per cui me l'hanno rifiutata ma va benissimo così però noi da utenti utenti autonti ci facciamo con acquisti e quindi sicuramente new borderlands sarà sarà portato penso il nei guanno insomma oggi utili insomma tempo permettendo devo finire tutte i giochi ancora quindi sono poi un attimo incasinato devo portare un gioco settimana per impazzire non mi vanno impazzire a prenderlo prendo ok a settimana non lo so diciamo ci faccio ci farò al massimo la mezz'oretta ragazzi mezz'ora 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 come piace youtube perché youtube questo piace se voi mettete dei live di tre ore a qui ci piace tantissimo a youtube no a youtube se mettete una live di tre ore su youtube non nessuno proprio zero ok fra poco guarderanno solo gli shots gameplay due secondi non lo so come cazzo fate a vedere non lo so manco il tempo delle notte va un attimo che sei venuto insomma dopo una una slunga quindi non è possibile vabbè però e queste sono poi ci sono altre novità ma smonales che se ne frega sul pc va vaffanculo le devi the devil me va bene un altro modo dei sei ma è di questo non lo so per semo vedere il gang grave saremo a vedere insomma sicuramente molti di voi dico a facci vedere il gameplay e magari no però vi posso far vedere i gameplay degli altri e sti cazzi poi c'è c'è master the space perché non mi arriva un cazzo del space questo se porta questo se porta è ovviamente e quindi insomma le cose acqua da qua a fine anno sol che dura nativa un canno nativo fatte in ucraina quale lo studio sta pure a chiev c'è stata bombata chiev c'è figurati se figuratevi se stanno ci va bene lasciamo stare non tocchiamo non tocchiamo se argomenti scomodi ragazzi questo è tutto io sapevo che nessuno sarebbe entrato sinceramente sapevo ed è questo il motivo per cui non dicendo dio a twitch ma un arrivederci quando faremo numeri magari a questo punto passiamo passiamo faccia faremo quelle live faremo pochissime live su twitch molte live su tic toc ok vediamo è vediamo però anche dire e gameplay su youtube però fatti bene fatti in mezzo all'uno fatti beh fatti beh se spera ragazzi fatti bene di bene dal gioco oggi ho fatto un gameplay che mi sono intossicato perché il gioco secondo me non è non vale quello che io credevo all'inizio all'inizio mi piaciuto tanto però insomma si topi si topi che insomma che stanno dappertutto c'è il gioco dei topi c'è plug tale rego è il gioco dei topi cadaveri si la storia ci sta carina si c'è qualche enigma però vediamo è più avanti forse un enigma solo delle campane faccio capire un enigma delle campane magari ecco se riesco se riesco ad arrivare a questo enigma è stato in cui è stato però vabbè può essere pure che è una preview che magari che magari in realtà in realtà diciamo mi sono sbagliato può essere che mi sono sbagliato sicuramente mi sono sbagliato devo ricordarmi se era sul 4 o sul 5 mi ricordo era sul 4 se non mi sbaglio era sul 4 vediamo un attimo con i potenti mezzi vediamo un attimo a volo a volo mi è venuto in mente adesso guardate perché le live non sono preparate le lave sono tutte frutto dell'improvvisazione pura eccolo qua ragazzi ho beccato perché le cose me ne ricordo allora allora vedete allora io entro qua dentro io entro qua dentro no e faccio nella mia live non so se l'ho portato su twitch ma no questa è 4k giusto quello che queste qua in 4k ovviamente su twitch anche volendo il multistreaming non me l'accetterebbe ok quindi in 2k scusate allora io entro dentro sta stanza commentiamo vi commento solo perché c'è una delle tante cazzate di sto gioco o le cazzate o almeno le cose che non dicono mi sono piaciute allora io sono entrato qua dentro fra l'altro andavo pure di fretta vabbè io perché sto cercando pure di ottimizzare tutti i tempi della mia vita c'è un gatto nuovo ok si chiama leo ok su tik tok se volete ci sono i gatti i nuovi video un po stupidi un po così po privati diciamo alla fine dal sapore casareccio di di insomma di leo nuovo nuovo gatto il secondo gatto di italia e niente io sono entrato e sono entrato dentro sto cioè magari ecco vi porto anche l'audio tanto è roba mia penso che lo posso fare perché è roba prodotto da me quindi penso che lo posso fa vabbè adesso qua sto stimando un po in inglese vabbè sti cazzi ma ecco mi concentrerò un attimo sul suo su gameplay vabbè ok allora sono entrato no e c'è questa specie di chiesa come si sale di sopra vabbè leggete no e io ero convinto che fosse un casino no l'ordine dei pianeti non è corretto come funziona questo affare e ve lo dice e ve lo dice vabbè può essere pure che magari allora io credo che sia il primo onigma forse per questo è facilitato però io non l'avevi fatto proprio così facile 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 avrei fatto un minimo difficoltà e invece invece qua è semplice quindi dobbiamo girare questi cosi dobbiamo già questi quattro specie di come abbiamo definiti questi quattro stato e queste cose quattro quattro in nell'ordine corretto anche diciamo come che fa come cazzo devo fa come cazzo devo fa anche perché si era fatta una certa tipo le 4 5 di mattina detto porca miseria proprio adesso che stavo chiedendo la live e che è successo è successo che lui ti dice esattamente vedete alla destra di giove c'è marta il dio della guerra è uno scudo attraverso una lancia ecco qua cioè ti spiega quello che devi fare quindi andiamo al secondo elemento il primo elemento abbiamo fatto il secondo elemento abbiamo fatto terzo elemento ok ci spiega che cosa dobbiamo fare quindi cerca cerca un cerchio vedete un cerchio eccolo qua venere c'è l'ultimo mercurio ha un bastone ha un bastone con due serpendi intrecciate eccolo qua e qui vabbè diciamo diciamo allora può essere può essere che è volutamente facile volutamente facile anche perché l'ha fatto il ragazzino quindi ha detto guarda guarda player guarda come se fanno gli enigmi mo te faccio vedere poi però dopo so cazzi tua può essere può essere quindi non sto criticando questo quello che è critico purtroppo è il gameplay del 5 del quinto episodio che purtroppo non vedrete mai su twitch ma sti cazzi visto che purtroppo non ho avuto seguito io a un certo punto devo fare delle scelte quindi preferisco in questo caso 2k su youtube ok e però però li commenteremo farò comunque le live le farò cioè non è che Goitalia sparisce farò live just chatting magari chi vuole consiglio informatico magari faccio il mio mestiere che so fare bene e magari meno gameplay dove mi diverte però magari giustamente non sono un pro player questo lo ammetto per carità quindi però ci sono alcuni punti di questo di questo gameplay che mi hanno fatto letteralmente girare i coglioni adesso è lento perché tutto questo sto streamando quindi sto mandando i dati a twitch ok quindi vedete quindi c'è qualche problema legato però sta andando non può venire allora ragazzi sta roba qua non può venire adesso tolgo il volume perché se no è un casino cioè tolgo lo metto minimo eeeh non schifo non schifo topi 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 anche il primo era così topi 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 si è impedito ecco per esempio qua perché ecco ecco io una cosa avevo preso una cosa random ve lo giuro ve lo giuro su mia mamma ok lo giuro su miscia lo giuro su 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 eh su nuovo gatto eeeh loco lo potevo chiamare invece no ho chiamato leo e mo mi è venuto loco però vabbè è un po' spagnolo chissene frega ok leo che magari è un po' pazzarello vabbè in realtà è tranquillo per il momento quindi vabbè quindi una cosa a caso allora c'è una parte del del coso dove non è che se correte è meglio non è meglio perché state col bambino dietro ho capito però di solito in alcune parti diciamo il personaggio di alizia felizia come cazzo si chiama sta tipa eeeh perché poi sono pure rincoglioni non mi ricordo le cose ma però i problemi me ne ricordo la protagonista ok spesso volentieri corre un po' cioè quel passo un po' più veloce che fa che non è la corsa voglio dire ora c'è questa fiamma in mano ok devi aspettare che i tobi si liberano però se se stai con la fiaccola in mano cristo santo e non è una bestemmia cristo santo e ti devi spostare perché stai vedendo che i tobi ti stanno per mangiare cazzo damose no damose non lo puoi fare muori cioè quale folle il programmatore ha programmato sta merda così non si capisce perché è rigida è rigida come come non so il culo di una una vergine scusatemi o non so ok che cosa devo dire di offensivo verso chi perché non voglio offendere nessuno in realtà voglio solo dire che è una roba una roba che non si può vedere secondo me e quindi no e quindi rimane così vedete rigido rigido ma scappa adesso scappa non si può perché c'ha le sue meccaniche del cazzo vedete no vabbè ragazzi ma è impossibile così perché io sapevo benissimo che stava succedendo ho detto ok prendo il coso cazzo scappa scappa perché stanno per arrivare si sta per spegnere la fiamma stanno per arrivare i cazzo di topi rivediamolo perché questo c'è perché allora a me non me ne frega niente è un cazzo che nessuno vedrà il suo video si grandi cazzi veramente perché poi siete liberi di andare diciamo dovunque vi prendo per il culo o dovunque non vi dicono sta roba qua su GoItalia le cose le dico che poi sia su Twitch no TikTok già lì vabbè lasciamo stare TikTok infatti non mi piace proprio perché la prima non è che io bestemmio la prima stronzata ti disegnano il canale ma affanculo vecchietta vecchietta di voghera scusami ti voglio bene vecchietta di vogher però mi ha rotto il cazzo vabbè in realtà non so vecchietta di voghera abbiamo capito sono altri streamer che dicono no vabbè mi sta sul cazzo non so basta con chiunque ti segnate ti butto giù il canale poi tu non puoi far neanche ricorso e quindi però rivediamo sta scena perché è una delle tante io in questa live veramente a un certo punto ci ho mandato a affanculo tutti tutti i miei parenti sinceramente che gli voglio benissimo cioè veramente guardate qua allora sto con la fiamma allora non è proprio tanta data spenda vabbè sicuramente non sto dicendo che è un gameplay perfetto e che io non abbia sbagliato ma nei gameplay ragazzi vi insegno una cosa che non è che vedevo insegnare a voi perché io sono il primo stronzo che non so programmare ok perché se stavo programmare forse facevo altro magari lavoravo con loro non so programmare non mi piace programmare ok a limite avete fatto beta testing però anche questi cazzi perché beta testing devi stare là tre ore in ufficio stare là non è divertente come stare a casa con il tuo studio con il tuo studio ok devi stare là zitto fai quello che dico io coglione quasi alla fantozzi io ci lavoro per un'azienda di sviluppo software so cosa significa lavorare per un'azienda di sviluppo software magari a volte ti fanno stare là tranquillo ti prendi caffè ti alzi poi gli arriva il momento che il PM il project manager ti dice devi fare questo devi fare questo quando poi non t'hanno cagato per un anno per dire e non è per dire in realtà è vero ok e ti mettono sotto devi fare questo devi fare questo adesso mi devi consegnare i documenti mi devi consegnare questo mi devi fare questo mi devi fare questo improvvisamente e quindi sotto con la frusta per questo mi sono rotto il cazzo e me lo metto in proprio però purtroppo purtroppo non è facile però analizziamo un attimo questo gameplay è la programmazione che c'è dietro cioè a me allora è vero che il timing è sbagliato che io dovevo partire prima ho capito ma dammi l'opportunità di recuperare ok era semplice se poteva fare io adesso vi dico 10 no 10 modi 3 modi o 2 2-3 modi come si poteva avvitare questa cazzata ok che poi capita spesso nel gioco perché c'hai questa fiaccola che si il suo cerino che si consuma quando si consuma per chi non conosce il gioco quando si consuma il cerino diciamo così il suo cerino che è praticamente i topi molto prima che si spegne è già questa cazzata perché cioè dammi il tempo qualche secondo però diciamo più o meno più o meno fatto benino questa cosa più o meno più o meno se spegne il cerino e te muori male ok si poteva vedere questa cosa nel senso si poteva fare in modo tale che tu puoi anche evitare di morire certo magari con che ne so con una barra di energia cioè una punizione tipo magari ok hai sbagliato il gioco nel momento che hai sbagliato ti toglie metà l'energia o un quarto di energia ti toglie dei punti che cazzo ne so inventa ma non che tu mi fai morire male perché io devo riportire dal cazzo di checkpoint che mi vaffanculo cioè questo è il problema allora cioè analizziamo questa cosa allora io mo l'ho preso ok è quasi 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 consumato questo se vede se vede ok però io già ero andato là cioè dovete andare indietro allora dovete andare indietro non si può oppure magari con un altro cerino vabbè vabbè lì era fantascienza un altro cerino lo mettevo insieme no perché io ho due cerini oppure magari li portava lui cerini dietro perché il ragazzo non mi può portare i cerini cioè se si cerini si paletti come cazzo li vogliamo chiamare perché il ragazzo dietro non li può portare che se li mette no e io dici passa il cerino ok ecco qua risolto vaffanculo no no per dire no una delle tante soluzioni non sto dicendo che insomma io come sviluppatore come sviluppatore avrei dato la possibilità la possibilità di risolversi problematica ok di non fare questa death per forza perché significa che allora puoi fare come Elden Ring vuoi che la gente muore perché deve morire perché o la fai perfetta la diciamo la il gameplay o sei perfezionista e se lo fai perfetto oppure si attacchiata al cazzo esiste la scalabilità esistono persone disabili che magari ci hanno riflessi un po' più lenti cioè ragazzi ma stiamo nel 2022 e siamo tornati nel 1980 no 1980 no del 2000 2001 2005 quando cazzo siamo tornati ma neanche 1990 non lo so 2000 proprio meno si siamo tornati al 2000 siamo al 2022 cazzo eh 2023 perché i giochi non devono essere più scalabili ok ho capito ci sta The Last of Us signori The Last of Us hanno fatto tutta la parte la parte per i disabili per le persone ipovedenti cioè vabbè non proprio c'è che insomma nel senso che ci vedono male per i daltonici hanno fatto una scalabilità immensa se tu c'è dei problemi di salute purtroppo io ce l'ho vabbè lasciamo stare però non riflessi più o meno insomma basta anche se vabbè però lasciando a stare i miei problemi di salute e di disabilità ma sto dicendo per quale motivo per quale motivo tu azienda devi farmi questa roba così ti sta bene questo gioco vaffanculo che cosa vaffanculo cosa vaffanculo cosa io ti sto dando i miei soldi e tu mi dai il vaffanculo perché magari così deciso capito di rendere il gioco che sembra effettivamente un The Last of Us perché questa è un po' anche per esempio possiamo anche analizzare in altri parti di questo gioco vorrei tanto però non c'è nessuno quindi non c'è neanche il pubblico che mi ascolta quindi è anche un po' inutile infatti sta roba tra due minuti stacco e ritorno su youtube a 2k vaffanculo dove non ci i video non li vedrà nessuno ma vaffanculo su 2k alla massima qualità che in questo momento mi posso permettere su questo pc sulla 3080 quindi vaffanculo però dico dico cazzo cioè che cazzo che cavolo ci voleva a fare una roba umana decente ripeto The Last of Us è scalabile puoi mettere una serie di cose ok è complesso farlo sì ma qua non stiamo parlando di una cosa complessa dammi la possibilità in questo punto quando si sta spegnendo vedete si sta spegnendo e stanno i topi che stanno là carità fatti benissimo nessuno dice niente ok vabbè che poi a volte si vede vabbè lasciamo stare vabbè non voglio non voglio inferire però 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 cioè tu qua allora io qua non è che volevo andare piano io qua cioè capito spingi 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 corre non puoi correre perché c'hai lo stronzillo dietro vedete pazienza ragazzino come cazzo si chiama che poi no quando mi incazzo perdo pure le condizioni delle cose però è tutto vero è tutto vero c'è lo stronzillo dietro che non si muove ma vaffanculo non si muove no non si muove e tu spingi a voi che mi spingi non puoi fare puoi anche buttare il cibo dalla finestra tanto è la stessa cosa cioè e muori e muori e muori perché io sapevo che si stava a spegne perché lo vedo il cerino che sta consumando ho capito che ho sbagliato quei due secondi però per quei due secondi che ho sbagliato muoio e non posso rimediare qua allora ci sono due cose che potevate fare potevate fare in modo tale che il personaggio si metteva a correre un po' di più ok magari spingendo il ragazzino facendo qualsiasi cosa il fatto del cerino l'ho detto prima ma quello capisco che era troppo complesso per la mente per la povera mente dei ragazzi si chiama you go grazie grazie a gonauta no vabbè sono incazzato abbia pazienza ringrazio che sei passato al mio canale perché purtroppo sto sloggiando da twitch nel senso sto andando su youtube dove non c'è pubblicità ok andrò su go italia dove non c'è pubblicità perché non sono partner di youtube quindi al momento non c'è pubblicità a streamare a 2k quindi se avete un monitor a 2k attenzione seguitemi su youtube perché lì ci sarà la streaming a 2k come la vedo io così la vedete pure voi quindi tanta roba senza alcuna pubblicità visto che vi lamentate che tu c'è la pubblicità e tu dice fa schifo tu dice bellissimo però youtube mi permette di fare la live senza nessuna affiliazione senza niente in 2k ok ve la regalo lì se vi piace se vi piace senza pubblicità senza tu a 2k ok mi sembra mi sento mi sento mastrota che sta che sta pubblicità quindi la o davi la possibilità a yugo di no passami il cerino passami un altro cerino lo accendo un attimo faccio qualcosa un'abilità qualcosa e non mi fai morì per ricominciare il cazzo del livello da capo lì mortacci tua scusami al gonauta 82 bellissimo numero bellissimo bellissimo 82 ci sta i mondiali del 82 palorossi una cosa del genere comunque vabbè allora dammi la possibilità cazzo di poter rimediare questa cosa no no e non si può fare dammi la possibilità di fare di correre ok mi dai la possibilità dammi la possibilità di roteare porca puttana di roteare questa fa dei salti no a un certo punto che mi sembra che mi sembra ma manco manco Aloy manco Tomb Raider manco che cazzo ne so aiutatemi voi a fare un paragone su chi mi sembra in alcuni passaggi del gioco cioè c'hai i topi che ti stanno rompere il cazzo si ho capito magari i dotoli vabbè però se rotoli magari con l'acciaio che cazzo ne so di saltare di fare qualsiasi cosa che sia che non sia io mi sto suicidando perché questo guardate è questo è questo cioè non puoi fare niente non puoi fare niente il ragazzino si stacca magicamente la la il ragazzino si stacca cazzo perché minimo per non morire ok vedete 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 questo questo frame immagine allora il ragazzino si è mosso ragazzi no perché io io impazzisco cioè io non è che io mi occupo di programmazione però io noto dei dettagli anche se faccio schifo dei gameplay però li noto i dettagli non è che non li noto che sono allora guardate il ragazzino come adesso si muove veloce guardate vi analizziamo lo vogliamo allora allora youtube ci permette a differenza di twitch ma stasera mi sa che mi bannano proprio allora ci permette di mettere 0,5% twitch quando che lo puoi mettere il fatto che il bod lo puoi mettere 0,5% non si può fare no vabbè non lo so mi sembra di no ok mettiamo lo 0,5% 2k che poi ok analizziamo a rallenty a rallenty no a rallenty a 0,5% va bene ok qua capito non puoi scappare non puoi fare niente ragazzino ragazzino si sposta velocemente e lei rimane come ragazzo aiuto sto morando ma che cazzo c'è stavi a godere di ottima salute un minuto prima no ma l'ho finito cioè l'ho quasi finito il primo episodio a un certo punto sono arrivato su quel cazzo del coso la come cazzo si chiama vescovo del merda quel vescovo del merda cioè lo stavo finendo poi ho detto vaffanculo perché c'erano altri giochi più importanti da giocare e l'ho mandato a fanculo perché ho detto beh ci ritorno ci ritorno guarda non so manco più cioè se il salvataggio ce lo sussimo se cazzo ce l'ho però vaffanculo ce l'ho lì tanto l'ho visto come finisce non streamando non mi interessava finirlo però veramente allora veramente c'ha delle cose ma non finisce qua io mi sono intossicato tantissimo nel quinto episodio lo finirò lo finirò e lo finirò lo posso dire lo posso dire cioè a un certo punto mi sono girato i coglioni ho scaricato un hack e vaffanculo finisco con l'hack cioè sti cazzi proprio con una mod vaffanculo sti cazzi tanto nel multiplayer non siamo anche su Twitch quindi sti cazzi però al di là che anche su Twitch comunque è consentito basta che se fai lì un multiplayer lì non è più un hack diventa un cheater e là quello fa bene perché te banna il canale Twitch e fa bene ma ma facciamo un single player cazzi tuoi poi magari qualcuno dice no sei un cheater ma in quel caso no è un hack è un hack perché riesco a fare delle cose che non riesco a riuscire a fare nel gioco diciamo aiutiamo i poveri programmatori che che hanno le mamme meritrici ok o comunque il loro project manager perché il problema non sono i programmatori ragazzi i programmatori sono i miei colleghi cioè nel senso noi non facciamo sviluppo software di videogiochi io sono un'azienda non vi posso dire qual è molto importante di sviluppo software è vero cioè c'è il badge di là non me lo posso far vedere perché anzi mi è scapitato mi hanno chiamato ufficio del personale perché secondo loro io avrei mai mai io ho mandato una cosa responsabile diciamo ho fatto una cosa in computer grafica dici che non è notorizzato perché ovviamente sono sono praticamente sapete proprio come sono svizzari no tipo così no all'ufficio del personale così sono così sono ufficio del personale quindi purtroppo mi scuseranno le due signore di una certa età che mi hanno contattato diciamo per farmi una lavata di testa sti cazzi era una cosa in computer grafica cioè c'era il logo della mia azienda della mia azienda che qui lavoro a 25 anni non so se quelle due signorie lavorano a 25 anni ci lavorano a 25 anni cazzo la prima del 2000 ok quindi cioè voglio dire voglio dire no sti grandi cazzi che non sono autorizzato sono autorizzato di che ma 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 baciammi sta minchia scusatemi che purtroppo io là ho detto vabbè scusate che devo fare devo chiamare il sindacato devo prendere un avvocato che dobbiamo fare no basta che ci mandino la mail di scusa va bene ok ho mandato la mail di scusa su cui ho detto la super cazzo non succederà più perché vabbè lì proprio cioè mi hanno costretto a chiedere scusa però vaffanculo ma lì lì è stato un discorso ma purtroppo vabbè chiediamoci lo stipendio no un po' la fantozzi però comunque mi sono tutto il cazzo lo stesso perché se no non avrei il coraggio di dirlo adesso perché se no magari qualcuno dell'azienda abbiamo visto che su Twitch hai parlato male dell'azienda ho detto mai come si chiama no e allora vaffanculo quindi detto questo capite che ci lavoro questa roba più o meno sulla programmazione sui colleghi insomma do supporto do supporto ai colleghi programmatori posso e quindi da tecnico da tecnico e da sistema di stagioni però al di là che non programmiamo videogiochi ma tu quel cazzo ne sai quindi non ne so un cazzo vabbè però purtroppo purtroppo a volte non si può giocare esatto così non si può giocare l'ho detto e comunque il discorso è semplice molto spesso sono credo da quello che ho capito sono sopra i proteger manager o comunque insomma i capi sviluppatori quello che sia oppure comunque chissà sopra insomma tutta la gerarchia dice no tu sta cosa qua la devi far così ma quello magari il programmatore dice scusi scusi ma veramente perché non ci mettiamo sta roba qua perché non ci mettiamo la scivolata che magari il giocatore non deve morire no il giocatore deve morire perché il gioco deve essere così allora capite capite l'efficienza di sta roba e poi ci sono delle supercazzole quindi ragazzi io ho spiegato anche il mio punto di vista per chi qualcuno che forse passerà su YouTube lo stavo portando qua su Twitch ho visto che non si collegava nessuno mi sono girato i coglioni ho detto ah sì sapete che c'è di nuovo sapete che c'è di nuovo se proprio devo stare a zero più me ne vado sul tubo dove posso mettere la 2k li mettiamo ripeto a mezz'ora quindi non più due ore vediamo se l'algo Mirko gli piace o non gli piace continuo Go Italia non si ferma che si chiamerà Blue Deep Go Italia che si chiamerà un altro Game Over no ma comunque il progetto Go va è qui su Go Go ci sarà sempre quindi quello ho deciso di lasciarlo che si chiama che si chiamerà Go Game Go 2k vediamo vediamo non è che ora lo dico come si chiamerà si chiamerà si chiamerà non so se continui a chiamarsi Go Italia o meno ha fatto un nome comunque abbastanza che recchiabile quindi come brand è un brand che mi sono inventato io ho visto su internet c'è qualcuno Go Italia ma non c'entra un cazzo non c'è il logo non c'è niente a qualcuno gli è venuto in mente ma non l'ha saputo neanche di costruttare perché alla fine c'è una SaaS una società come cazzo si chiama però non c'è non c'è come brand poi è un'idea che è venuta da me assolutamente da me non me l'aveva fa schifo non fa schifo è venuta da me però il progetto Go va ok quindi non è più Game Over ma è Go e noi si va si va che stiamo su YouTube che stiamo su Twitch che da qualche parte saremo poi chi mi vuole seguire mi segue Algonauta è entrato giustamente poi si è rotto il cazzo io capisco perché il dissing non piace a nessuno specialmente in questo periodo di crisi lo capisco poi vogliono tutti quanti sentire e dire non ti preoccupare andrà tutto bene non ti preoccupare andrà tutto bene oggi vedevo una live una live un video di M89 io li cito gli altri non me ne è fatto un cazzo nessuno citerà me che parlava no parla perché alla fine sono uno di voi ragazzi allora Go Italia alla fine è un progetto ma un club è un bar è un'astronave è qualcosa anche vostro dove potete dire la vostra assolutamente ci sta parla con Go Italia qua potete parlare con pochi punti no ma andami a fanculo no cioè possiamo tranquillamente non c'è problema non ve banno cioè se mi offendete mia mamma è la mia ragazza che ha detto che me la scopate allora lì sono costretto a bannarvi ma senza che arrivate a questo a questo trash a queste cose dissocianti che di cui mi dissocio prima io prima io nei vostri confronti e nei confronti di quei due o tre troll che sono tre troll hanno venti di loro comunque vabbè di una serie da spiacevole ma al di là di questo io vi voglio tutti quanti bene cioè parliamo di parliamo di videogiochi parliamo di maniera anche cacciarona quello è il tronema però che analizziamo le cose io le faccio analizzare cioè guardate qua sta roba non si può vedere fa schifo sto gameplay ma non perché io sono una merda poi ho capito come fare ho lanciato un hack ho bombe infinite ho tutto lo cazzo che voglio ho modificato il gioco e vaffanculo sul pc si può fare sul console no però però sui giochi belli come quello di horizon che io ritengo una roba bella ci stanno i difetti quindi ogni tanto si muore e si muore anche male ma ogni tanto qua si muore spesso male si muore spesso male cioè non mi piace poi ci sono alcune cose che sono anche fighe no sono carine sono carine alcune cose sono carine poi alcuni errori fatti quello vabbè però diciamo è molto 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 digito questo gameplay e vabbè ragazzi io sarà lunga io speravo che entrasse qualcuno volevo volevo un confronto come spesso chiedo spero sul suo gioco che secondo me è un gioco bello però al stesso tempo è merda e nessuno ve lo dirà mai cioè nessuno vi dirà mai ragazzi ci sono delle cose programmate almeno che non l'ha detto falco davide falconero davide si chiama come me anch'io mi chiamo davide go italia davide quello falconero davide a meno che non ve lo dice falconero non lo so che mi sembra abbastanza è l'unico almeno in passato poi è normale che non lo seguo più tanto che diceva ogni tanto play the inside già stanno cioè ragazzi più si diventa famosi più le case di produzione che stanno dietro fanno pressione se voi parlate male del gioco me fanno un culo così cioè quindi non si può più quindi più diventate famosi più la vostra bocca e non possono parlare parlano ma in realtà non possono parlare perché hanno un attimo ha fatto male chiuso hanno chiuso il portone è chiuso non possono parlare di sta roba non ve lo possono dire che ci sono alcune parti dei gameplay che andrebbero rifatte che fanno schifo pessime decisioni roba di merda e non vi diranno mai il suo gioco l'hanno preso hanno preso Last of Us e l'hanno copiato perché ci sono alcune sequenze ragazzi vogliamo vedere la prima sequenza perché il gioco ve lo fa capire subito io sono un clone di Last of Us cioè non ve lo nasconde neanche sapete perché andiamo andiamo sempre su GoItalia Game 2K il nuovo mio canale il mio nuovo canale YouTube che poi è sempre GoItalia in realtà sembra lo stesso lo ho denominato ok andiamo a vedere andiamo a vedere il primo gameplay se riesco se riesco vediamo un attimo sì sì ok andiamo a vedere ok non qua non sta parte qua adesso l'ho messo ovviamente a 0,5 ma va benissimo così ok guardate qua c'è la parte la parte dove il bambino a un certo punto potevo per la serie potevo potevo rimanere offeso ok che non mi ricordo più ma dove sta cioè mi ricordo ma non mi ricordo c'è una scena truculenta ah se mi devo ricordare un attimo sta roba io la faccio la faccio così poi se avessi molti molti viewers la farei meglio vi posso assicurare quindi già è tanto che è a 0 vi porto sta roba quindi apprezzate voi che apprezzano questo video o nessuno comunque a un certo punto c'è sta scena ok ragazzi c'è sta scena ok allora sta scena sta scena la mettiamo a 1x perché si deve mettere 1x senza volume la mettiamo 1x e ce la godiamo ditemi voi che cazzo vi ricordo sta scena no che è 2x no ok cioè non adesso ovviamente dove potrebbe essere qua potrebbe essere anche un gioco sul video evo potrebbe essere qualsiasi cosa qua è abbastanza è abbastanza diciamo ecco qua allora già qua allora già qua guardate la telecamera che succede la telecamera si sposta dietro ok si sposta dietro in maniera cinematografica ma vedete quello che succede il personaggio che viene soffocato sta in difficoltà poi se volete cioè vi faccio vedere 10.000 cose ecco qua caccio il coltello ok voi potete dire ma sta roba si è visto un sacco di film si è vero ma lo stile i colori l'inquadratura il taglio cioè 100.000 cose 10.000 cose qualcuno di voi le notate qualcuno anche si cazzi io stesso magari certe cose non le noto più io qualcuno di voi magari anche più non dico intelligente di me magari più attento sicuramente di me c'è una memoria migliore della mia avrà notato come diciamo The Last of Us parte 2 diciamo Abbey eccetera eccetera e quindi questa scena è palesemente ispirata ispirata non copiata perché possiamo dire copiata non ci mancherebbe altro cioè non è nessun plagio però voglio dire per dire sono pochi frame non è tutto il gioco ma è un gioco che dice io voglio essere vi darvi la sensazione di stare giocando The Last of Us parte 2 ma non se lo può permettere perché se tu mi cioè se tu mi porti la pizza la pizza e poi me la ci metti sopra l'ananas me la rovini quindi questo è un gioco rovinato dall'ananas è una pizza buonissima è una pizza buonissima una pizza succulenta una pizza cioè come la fanno da Michele a Napoli questo risposto a quello che mi ha scritto il meridio non esiste che in realtà è una merda perché sopra ci sta alla fine perché sopra ci sta il maledetto il maledetto maledetto no non formaggio ma il maledetto no non c'è di oro ma il maledetto adanas e il cazzo di adanas ci hanno messo in mano il cazzo di adanas e questo è questo è il suo gioco purtroppo c'è l'ananas sopra qualche project manager perché? perché ci hanno messo i topi perché si doveva morire male una continuazione perché perché il gioco doveva essere più o meno quello perché non si poteva distaccare no per carità poi vediamo più avanti ci sono cose che mi hanno che mi hanno fatto impazzire ma cose che mi hanno fatto schifo quindi se me una cosa mi ha fatto schifo e la possiamo dire perché tutti quanti ne parlano bene quindi se io vi dico le cose belle che va bene ma tutti quanti ne hanno detto però mi sembra che nessuno ha usato questi toni con questo gioco che all'inizio ho detto mmm bello poi mmm e non perché sono molto mali dice vabbè ma tu non sai giocare sei un nabbo né merda non ci sai giocare no vi ho dimostrato credo vi ho dimostrato il fatto che il gioco 1 non è scalabile 2 è rigido e 3 è molto molto ispirato a The Last of Us parte 2 che ritengo che sia un capolavoro punto che sia un capolavoro con dei difetti ma che non sono questi non è l'ananas magari può essere che invece della mozzarella di bufala ci hanno messo la mozzarella non so per dire troppo c'era troppo latte non lo so ragazzi fa un attimo paragoni che non hanno senso però diciamo è sicuramente non è non ci sono questi gravi problemi della sua parte 2 2 e credo che sia un po' di struttura digita su certe cose ma alla fine per come è fatto per come va avanti per come ti trascina ragazzi io ho fatto la seconda run è volato l'ho fatto due volte di fila su playstation 4 ok cioè playstation 4 ho fatto una run su playstation 4 una run su playstation 5 sono volate sono volate cioè io stavo là erano le 5 di mattina cose che a volte io mi addormento così così no così a un certo punto so fare il gameplay poi mi trovate così cioè capite capite che non è possibile invece là io stavo alle 5 di mattina con gli occhi sbarrati così no con gli occhi sbarrati così fino alle 5 di mattina ne voglio ancora ne voglio ancora dammi di più dammi di più dammi di più sì sì la seconda run ma godo cioè questo capite capite per questo io poi mi annoio perché poi gioco anche male perché se il gioco è fatto male io questo vi voglio di frega sti cazzi o mi credete o ve ne andate a fare in culo non me ne fotte un cazzo veramente o mi credete o ve ne andate a quel paese perché mi dovete credere perché io vi dico la verità ok io quando quando gioco a un gioco che è fatto male o c'ha dei problemi molto gravi no a meno che non sono 24 ore che non dormo io mi ci addormento sul pad non ce la faccio che poi io testando dico no lo devo finire perché scommetto che alla fine questo gioco mi fa di credere io fino alla fine fino all'ultimo secondo fino a che non scomparino i credits io spero sono l'ancora sperale ti prego fammi uscire fammi uscire la cosa bella di questo gioco ti prego ti prego cazzo ti prego fammi uscire qualcosa di bello e invece no puntualmente me esce la merda capite puntualmente me esce la merda perché alla fine rimane coerente coerente non me esce niente però questo è il discorso io cerco cerco veramente di portare i giochi finiti al 100% tutti anche quando mi fanno schifo con poche eccessioni perché là proprio quando mi sale il contatto di vomito da un certo punto devo interrompere e lì dico vabbè per preservare la mia salute mentale perché quel poco ne è rimasta però capite capite che il discorso è questo qua non è un coprolavoro questa roba e forse qualcuno di voi l'ha capito perché non lo so però se vedo multiplayer e qua finisce dissing sul suo gioco perché ci voleva perché lo sto portando e lo finirò al 100% ma con degli hack eh dove avremo tutto infinito vaffanculo ve lo dico io non so il tipo che che vi dico queste cose ma sapete cioè me cioè sinceramente poi mi segnaleranno il canale su youtube qua su twitch non si fanno queste cose perché evito però 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 lì su chi se ne frega su youtube veramente c'è di tutto quindi va bene così però però cioè non è possibile perché se io se io mi apro forse probabilmente non si può fare chi se ne frega però se mi apro una recensione una recensione ok di questo di questo ovviamente non qua non qua ma su google ok non andiamo su repubblica non ci interessa nulla del governo le cose le cazzate che stanno facendo e mettiamo review oppure recensione questo vogliamo delle recensione magari no tanto stiamo facendo questa live in italiano ok copyright questi grandi cazzi cioè tanto alla fine solo il voto mi serve ok 8.8 signori 8.8 8.8 non si vede niente ma hanno il bernato che te devo dire ma amazon io ci sono ma amazon ci sono sto controllando la live ci sono si 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 io ci sono ma vanno bannato perché ho detto qualche cosa che non dava detta ma hanno censurato che vedevo dire adesso ti vado da live se è il caso la cancello chiedo scusa tanto a twitch io io diciamo sono io voglio bene a twitch ma che ci posso fare io vado vado non dove ti porta il cuore vado dove ti porta la decenza in questo caso ma nel caso specifico nel caso specifico andiamo 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 a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere perché veramente non se ne può che poi questa live avrò fatto di errori insomma padonnali spero di no spero di no perché io a un certo punto ho perso il controllo della situation però non è questo discorso che mi incazzo ha avuto un 8.8 un 8.8 un 8.8 e quelle cose che vi ho detto sono vere andatevi a contare i gameplay il gameplay insomma il primo il secondo cioè tutte le cose che ho detto sono vere poi se mi vado a rivedere la live mi calmerò un attimo e poi ricominciamo insomma con l'ultima parte la sesta parte andiamo con la sesta parte live in diretta su youtube però in 2k la sesta parte di Aplugtel Requiem tanto comunque non sarebbe venuto nessuno su Goitalia lo so perché ci ho provato ho fatto anche una seconda run e la seconda run in realtà io avrei dovuto scrivere la seconda run perché voglio vedere se entra qualcuno ok ho fatto la seconda run sono stato là ho stimato orario di giorno ho fatto tutto quello che mi avete chiesto è lo stesso quindi se su 20-30 persone che mi avete detto io ti seguirò sempre e non siete entrati due sole cose due sole cose ok o non funzionano le notifiche di twitch o siete dei cazzari del merda ok o siete dei bm e questo non si può dire alla prossima live ciao scusate scusate lo sfogo però ci vediamo ci beccheremo in giro su un'altra vita non lo so torneremo qua per le just chatting e dissing e le varie cose comunque mi raccomando i giochi devono uscire se volete sapete dove lo trovate da youtube twitch i gameplay comunque li trovate i vod comunque se ci sono ci sono bene se qualcosa non c'è evidentemente su youtube go italia lo conoscete se ne volete le cose si portano ok e si portano divertendoci non sempre è possibile ma la quantità di roba che porto sfido quel taleale sfido Mike Shosha sfido chiunque a portare tante ore di streaming come le sto portando io baciatemi eh il deretano ragazzi non è però dice ma loro portano meglio grazie fanno un editing fatto bene a me sinceramente l'editing mi ammuscia le pelotas mi faccio mi scendono i coglioni sotto la schifania mi scendono ok perché devi stare là po 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 sono ragionieri ok sono ragionieri io mi ritengo un vero cazzo dei gamer anche invecchiato anche che perso colpi anche che ormai non ce la fa più e questo è un dato oggettivo ma comunque un vero gamer non sono un cazzo dei ragionieri che ragiono con i soldi però oggettivamente se devo stimare da solo perché non è questione di soldi se devo stimare da solo io preferisco stimare a 2k su youtube alla prossima live ciao 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 ciao